Di nuovo insieme, care marchigiane, umbre italiane, cari tutti coloro che ci seguono, ci scrivono, partecipano a Buongiorno ITV. Sei in onda anche tu, dalle 8 alle 9 e 30, sparisce come per magia, no ho schiacciato un tastino, la scrittina rassegna stampa diventa una parte, quella di Buongiorno ITV, sì, con tanta informazione, ma anche con un pochettino più di spazio verso i vostri messaggi. Questa è stata duramente commentata, davvero mi rendo conto, perché un epilogo così di questa vicenda di cronaca non ce la immaginavamo, non se ne immaginava nessuno. Bottiglie bomba, autori tre bimbi, siamo a Pesaro, hanno 11, 12 e 13 anni, non sono nemmeno imputabili, perché sono minori di 14 anni appunto, come prevede invece la legge, hanno ammesso tutto alla polizia. Abbiamo visto come si faceva una bomba all'acido su YouTube, volevamo provare la scelta di piazzare la bomba nei pressi della scuola, è stata casuale, mentre invece chi ha lavorato nelle indagini per capire il gesto ha, vista anche la vicinanza ad una scuola, ipotizzato che ci potessero essere dei collegamenti. Autori delle bottiglie bomba all'acido, esplose e che per fortuna non hanno fatto del male a nessuno, sono praticamente tre bambini. Questa è una delle notizie che racconteremo sul fronte Marche. Dall'Umbria la vicenda della ricostruzione post-sisma e vi ricordo stasera, come sempre, Sibilla, le voci della ricostruzione a partire dalle ore 21 con la collega Linda Cittadini. Ci siamo occupati spesso sia della ricostruzione Marche che di quella in Umbria e allora il sindaco di Norcia condannato per casa Ancarano. Il Tribunale ha anche disposto la demolizione di parte della struttura venuta sua, approvata in deroga nei giorni immediatamente successivi al terremoto perché c'era bisogno di dare una risposta immediata, ma qualcosa evidentemente non ha funzionato. Le notizie nazionali e internazionali. Lo abbiamo raccontato già dall'inizio della nostra mattinetta insieme, dalle 6.45 siamo al 24 marzo 2022. Esattamente un mese fa, il 24 febbraio del 2022, e questa data si ricorderà per sempre, iniziava il conflitto in Ucraina. Un mese dopo, così è cambiato il mondo intero, oggi in edicola uno speciale gratuito del Corriere della Sera tra le tante terribili immagini scelte. Questa qua, una mamma che piange suo figlio a terra coperto dignitosamente da un velo macchiato di sangue e dietro una profuga, una che scappa con uno zaino davanti, uno zaino dietro e delle buste nelle mani. Questa è una delle tantissime, terribili immagini che la guerra ci ha dato. Buongiorno da Said, buongiorno, grazie per la vostra partecipazione. Buongiorno Maurizio, il Papa Kiev è un tema che stamattina vi sta toccando tanto, messaggi a decine. In effetti ha una molteplicità di rischi, ma se Papa Francesco chiedesse un incontro con Putin al Cremlino, magari, aggiungo io, che dici potrebbe essere attuabile, il problema forse è l'accettazione da parte di Putin. Beh, è un'ottima idea invece, secondo me, anche perché Putin sa bene come la Russia sia un popolo fortemente credente, devoto a Maria, potrebbe essere invece una mossa importante. Allora, chissà che non sia già venuta in mente a persone ben più importanti di me e di te messi insieme, però strano effettivamente che ancora non sia stata fatta questa proposta, forse perché si teme un rifiuto da parte di Putin, un rifiuto che arriverebbe, secondo me, ahimè. Caro Gas, Draghi pressa l'Unione Europea e prepara nuovi aiuti anche in deficit. Questo è importante perché? Perché ieri l'Unione Europea, che è tanto vicina all'Italia, SIC, purtroppo ha mancato in una decisione. Io questa ve la voglio raccontare così, la trovate proprio sul giornale, eh? E quindi dal nazionale torniamo al locale. Niente tutele, blocchiamo i cantieri. Un rischio sempre più concreto perché? Perché è saltata la norma sul caro prezzi. L'edilizia è rivolta. Ieri l'Unione Europea poteva stabilire un tetto massimo di costi delle materie prime e quindi, per esempio, anche quelle materie che servono per quanto riguarda l'edilizia. Quella norma non è stata approvata e quindi potrebbe continuare la corsa e il rally dei prezzi. Ecco la risposta di chi lavora nel settore. Blocchiamo tutto perché così non è possibile andare avanti. Già che siamo al giornale di Macerata, lo completiamo. Spinta alla Movida in centro. Da una parte, scusate se faccio questo parallelismo, c'è una città, un capoluogo regionale, Ancona, che ha il problema della Movida in centro e che viene affrontato questo problema con addirittura norme per proibire l'utilizzo di alcolici dopo certe ore, l'impegno sul territorio importante delle volanti, delle forze dell'ordine. Invece Macerata prova il contrario, cioè prova a portare il pubblico in centro. Dopo due anni di stoppora c'è grande attesa per il ritorno degli aperitivi europei di primavera. Baristi pronti a dare una mano nell'organizzazione. Compra una Jaguar, ma è una truffa. Coppia finisce a giudizio. Occhio quando comprate online, soprattutto quando comprate la Jaguar, che immagino abbia un prezzo abbastanza impegnativo. Sempre sul fronte delle truffe online. Da Macerata faccio un collegamento con Fermo, finto assicuratore sul web. Nessuna copertura in realtà. Automobilista, una ragazza di 42 anni di Fermo, scopre il raggiro solo dopo un incidente. Aveva bisogno che l'assicurazione intervenisse. Invece è trovata raggirata. Voglio ora parlarvi di una cosa bella. Ancora non c'è neanche sul nostro sito, perché fino a ieri avevamo un'organizzazione da gestire, quindi non ne eravamo certi. Ma ora sì, lo possiamo annunciare questa sera alle ore 22. La piccola grande Diana, la pianista che ha commosso l'Italia e l'Ucraina, perché scappata da Kharkiv, è riuscita a trovare rifugio a Falconara, grazie a una famiglia, grazie anche all'amministrazione comunale di Falconara. Poi grazie al comune di Ancona e in particolare a Ida Simonella, che si è messa in collegamento col comune di Pesaro, avrà la possibilità di continuare a studiare il pianoforte proprio al Conservatorio Rossini. Insomma, una bella storia che parla di pace e noi questa sera organizzeremo, grazie al maestro Marco Santini, che ha dato la sua disponibilità, un mini concerto per la pace. Saranno qui insieme nei nostri studi con un pianoforte che aspetta la piccina e io vi voglio ricordare questa piccola grande artista che è già stata protagonista della festa per Pesaro Capitale. Eccola qua. Le mani si muovono veloci sui tasti bianchi e neri, gli occhi vispi e concentrati, disegna note e affida loro i suoi sogni, che la guerra a casa in Ucraina finisca presto. Il pianoforte del suo scudo, il suo rifugio soprattutto, il suo talento è una speranza di pace nella festa in piazza a Pesaro per la nomina a Capitale Italiana per la Cultura 2024. Diana Dvalishvili, nove anni, scappata con la famiglia dai bombardamenti russi su Kharkiv, dove c'era la sua scuola di pianoforte, è ora una studentessa al Conservatorio Rossini di Pesaro. Dopo l'annuncio al Ministero della Cultura della scelta di Pesaro, il sindaco Matteo Ricci aveva dedicato la vittoria nella competizione con altre nove città finaliste proprio a Kharkiv, città creativa della musica come Pesaro. La storia di Diana era stata condivisa su Facebook a inizio marzo dall'assessora al porto del comune di Ancona, Ida Simonella, che aveva postato foto e un video della bimba al piano, e dalla sindaca Valeria Mancinelli. Ricordando i legami tra Pesaro e Kharkiv, l'assessora aveva contattato il sindaco Ricci, che insieme al vice sindaco Daniele Vimini aveva messo in piedi un'operazione velocissima per accogliere Diana e sua sorella al Conservatorio. Per lei è tutto nuovo, la nuova città, la nuova vita, ecco, tutto nuovo. Gli è piaciuto tanto che al Conservatorio c'è l'organo, non ci sono i difetti, gli è piaciuto praticamente tutto. Certamente voglio tornare a casa, gli mancano tanto i posti preferiti, dove andava a fare la danza, gli amici, gli manca praticamente tutto, e non vedo l'ora di tornare. Ho ricevuto questo video da un po' di amici e ci siamo tutti adoperati per Diana, per il suo talento, perché poi di fatto quello che è avvenuto in questi giorni ci fa vedere che in realtà, come dire, la bellezza è veramente la risposta più straordinaria alla tragedia che stanno vivendo. Questo stasera potremo riproporlo anche perché sarà presente l'assessore Ida Simonella nei nostri studi con i genitori della piccola Diana e ci sarà in collegamento anche il sindaco di Pesaro Ricci. Le bollette, proviamo a raccontare anche qualche cosa di piacevole, dai, da un punto di vista pure economico. Le bollette che frenano dopo i record, uno via l'altro, dopo 18 mesi di aumento, torna il segno meno. Ma intanto le bollette sono aumentate, non è che oggi costeranno meno di 18 mesi fa quando hanno cominciato ad aumentare. Bisognerà avere pazienza, aspettare e soprattutto sperare che nel frattempo la guerra in Ucraina si fermi. Abbiamo poco fa sentito Putin, trovate il video anche sulla nostra pagina Facebook, annunciare che accetterà i pagamenti di gas e petrolio solo in rubri, non più in dollari e in euro. Situazione che potrebbe portare a una scarsità di materie prime, a un aumento dei prezzi ancora una volta, ma soprattutto all'annullamento dei contratti perché in quei contratti c'è scritto che la Germania, l'Italia e altri paesi possono pagare in dollari o in euro gas e petrolio. Quindi si apre uno scenario ulteriormente negativo sotto questo aspetto. Vi farò, visto che ho fatto sentire Putin, vi farò sentire poco fa anche Zelensky, protestate contro la guerra. Questo è il suo appello ad un mese di guerra. Le previsioni del tempo, dai, ci torno, perché oggi avremo 20 gradi in quel di Pesaro, clima assolutamente piacevolissimo, cielo sereno, poco nuvoloso, situazione analoga, anche meglio in provincia di Terni, amiche e amici del canale 14, 21 gradi la massima su Terni. È l'effetto di questo anticiclone che sta portando tepore fuori stagione. 3493918169. Un'altra notizia, un altro paio di notizie locali, dopo il giornale per Ascoli e per Macerata, vi porto ad Ancona. Così come andava forte il tema degli aperitivi legati a Macerata, gli aperitivi europei, che dovrebbero spingere, dicevo poco fa, la cittadinanza, anche la movida, così come viene ribattezzata, a tornare in centro a Macerata, c'è un problema diametralmente opposto nel capoluogo regionale Ancona. Varchi anti-alcol in piazza. La proposta del questore capo casa per controllare i giovani con le bottiglie prese al supermercato, che è un modo, le bottiglie prese al supermercato, di aggirare la norma contro il consumo di alcolici in centro e anche nell'ambito della città dopo le ore 21. Via la licenza, intanto a due night, resta in carcere il giovane americano che sabato notte ha aggredito il figlio di Amatori. Ma si è giustificato? No, no, stavamo giocando, stavo scherzando. Purtroppo in 13 giorni, 5 risse, piano far west, pugno di ferro, un ubriaco è stato denunciato e c'è un'immagine appunto di Corso Carlo Alberto con quattro agenti di polizia che fanno i dovuti controlli. Fuga dalle bombe, accolti in provincia di Ancona 870 profughi ucraini, soprattutto principalmente in famiglie, presso amici, presso parenti, ma si è aperta anche una rete di persone che hanno dato la propria disponibilità. E su questo ho anche un contributo che non viene dalla provincia di Ancona, ma per confermare che le Marche hanno il cuore grande, viene dalla zona, tra l'altro, del cratere da Muccia, dove sono stati accolti i primi ucraini. La Andrea Bocelli Foundation al fianco dell'Ucraina. Sì, servizio. L'impegno della Fondazione Toscana è su più fronti, prima di tutto il sostegno all'UNHCR. Li sosteniamo nel portare beni di prima necessità e soprattutto psicologi per il sostegno dei bambini e degli adolescenti. Invece, quello che facciamo, quello che abbiamo pensato di fare è utilizzare le strutture dei container, delle SAE, per accogliere in tutta fretta le persone che, in particolare a Cracovia, stavano scappando. Ecco, proprio le prime 23 persone caricate a Cracovia sono arrivate nelle Marche a Pievettorina, San Ginesio e Muccia, 13 bambini e 10 adulte. L'idea sarebbe quella di fare la prima accoglienza nei container appunto a Muccia e poi, man mano che sono libere le SAE, per ora ce ne abbiamo un po' a coglierle. E poi oggi, appunto, noi abbiamo organizzato un team con una psicologa e due educatori e stanno già sentendo le famiglie per capire anche i desiderata di ognuno. Quindi può darsi che alcune siano mosse da qui verso altri luoghi nelle prossime settimane, però diciamo che intanto qui con Macerata, Questura di Macerata, Prefettura e Sindaci risolviamo, dovremmo risolvere il problema dei permessi di soggiorno e poi da qua collocarli in via diciamo semidefinitiva fin quando non finirà questa storia il prima possibile speriamo. I bambini ucraini hanno subito iniziato un percorso educativo laboratoriale proprio per velocizzare l'inclusione all'interno della comunità prima dell'inserimento ufficiale presso le scuole del territorio Occhi pieni di meraviglia nel loro primo impatto nella scuola De Amicis di Muccia realizzata nel 2019 proprio dalla Fondazione Bocelli. Li abbiamo fatti entrare non in scuola perché ancora non possiamo ma nelle aule speciali quindi i bambini ovviamente subito si sono lanciati sugli strumenti erano felicissimi e speriamo appunto in una settimana di risolvere tutti i problemi relativi a vaccini e covid stamattina già erano grazie veramente alla collaborazione di tutti protezione civile e comuni che ci stanno dando una mano e speriamo di poterli vedere a scuola dalla prossima settimana. speriamo speriamo che questo risultato sia raggiunto complimenti alla comunità di Muccia e alla Andrea Bocelli Foundation buongiorno a tutti altro messaggio da parte vostra un personale contributo per agliettare la giornata con questo mio scatto dell'entrata della primavera sono lepri che si affrontano per conquistare la femmina nel periodo degli amori lungo appostamento nel parco del Conero ci scrive l'amico Gianfranco Gervasi ma un lungo appostamento che ha portato ad un bellissimo risultato già è difficile beccare un lepre come si dice dalle mie parti anche nella zona dove abito c'è capita ma è così veloce che non si riesce neanche a prendere in mano il telefono che già è volato via figurarsi addirittura tre lepri tutte insieme nello stesso scatto fotografico complimenti a Gervasi buongiorno desideravo sapere se il costo del metano si è abbassato grazie no purtroppo no perché come abbiamo spiegato il metano viaggia su un percorso un mercato e anche una tassazione differente per cui purtroppo non c'è stato quell'effetto che è stato prodotto dal decreto energia annunciato venerdì scorso da Draghi che da ieri abbiamo documentato anche con una foto molto chiara ha portato alla riduzione che tanto aspettavamo ben poco ancora ma perlomeno qualcosa è bollette record torniamo alle notizie qui siamo al Carlino per Ancona le vostre nostre notizie quindi segnalateci anche quale città voleste approfondire sul fronte delle news io ci andrò bollette record operaio Whirlpool vende tutto per pagarle è la scelta di Alessandro Belardinelli che vive a Materica e lavora nella fabbrica di Fabriano è tornato alla stufa legna pensate e ha rinunciato a parecchie cose per cercare di sopravvivere all'aumento incredibile delle bollette che hanno raggiunto anche il 50 e il 60% questi aumenti rapine in disco con lo spray contatti con la banda di Corinaldo ricorderete il dramma due giovani in cella Indino capo del sindacato dei locali da sballo spiega sulla sicurezza noi abbiamo le armi purtroppo spuntate il covid nelle marche contagi giù ma sale l'incidenza calano ancora i contagi che sono 2616 ma continua a salire l'incidenza ogni 100.000 abitanti ricoveri in salita attenzione quindi c'è per fortuna però il calo delle vittime una è comunque un dramma però una sola vittima nelle ultime 24 ore a proposito di covid noi abbiamo raccontato come anche attraverso le notizie nazionali ci sia stato un mezzo fallimento quello di Novavax sembrava poter essere la quadratura del cerchio e quindi lo strumento attraverso il quale anche gli indecisi potessero avvicinarsi alla vaccinazione invece no Novavax che è in campo da circa un mese in Italia non ha prodotto i risultati sperati ho anche una intervista al presidente Acquaroli sul tema covid presidente in questo caso della regione Marche faremo il punto anche sullo stato del covid in Umbria e allora attraverso l'ansa regionale si conferma come la crescita che c'è stata nei giorni scorsi in Umbria ricordiamo l'Umbria la peggior regione per aumento per accelerazione di questa alba di quinta ondata che speriamo non ci sia mai adesso c'è una stabilizzazione sostanzialmente stabili i ricoverati covid in Umbria ve l'avevo promesso vi ho fatto sentire poco fa Putin sul tema da ora in poi ci pagate gas e benzina solo in rubli sentiamo anche Zelensky come ha voluto mandare un messaggio al mondo ad un mese esatto dall'inizio del conflitto sentiamo dice ringrazio chiunque agisca a sostegno dell'Ucraina della libertà ma la guerra continua gli atti di terrore contro gente pacifica vanno avanti già da un mese da tanto dice Zelensky questo mi spezza il cuore il cuore di tutti gli ucraini e di ogni persona libera sul pianeta il vostro sostegno venga dai nostri uffici dalle vostre case dalle scuole dalle università mostratevi in nome della pace con simboli dell'Ucraina a sostegno dell'Ucraina a sostegno della libertà andate in piazza per le strade fatevi vedere e sentire dite che le persone contano la libertà conta la pace conta l'Ucraina conta dal 24 marzo riunitevi nei centri delle vostre città tutti insieme coloro che vogliono fermare la guerra questo è il messaggio del presidente dell'Ucraina e noi come tv nel nostro piccolo accetteremo questa richiesta come abbiamo anticipato realizzeremo questo piccolo concerto per la pace la piccola Diana Ucraina e il maestro violinista Marco Santini questa sera sui tv alle ore 22 come faccio a vederlo che non mi prende la televisione sarà trasmesso anche in diretta a facebook e quindi anche qui lo troverete Marika buongiorno Margherita buongiorno Daniela buongiorno buongiorno Maurizio ci dice Graziella oggi qui a Tolentino non si vede speriamo che venisca presto buon giovedì oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno per la rivoluzione digitale quindi da domani dovrebbe esserci un giorno migliore allora da domani sul fronte anche dei mondiali potrebbe essere un giorno migliore perché perché stasera si gioca io vi invito a seguire la trasmissione il concerto di pace della piccola Diana e del maestro Santini ma capirò chi decidesse di guardarsi l'Italia stasera l'Italia se la gioca con la Macedonia del nord pazienza e testa libera la Macedonia non ci dimentichiamo ha già battuto la Germania Chiellini e l'incubo spareggio del 2017 quel ricordo ci aiuterà a gestire meglio le possibili difficoltà era l'Italia di Ventura ricorderete con l'incapacità di fare un gol anche un solo gol in 180 minuti contro la Svezia facciamo le guerre poi facciamo la pace e lo so è un paradosso buongiorno con questa carta particolare ci scrive Lucia vediamo se riusciamo a scaricarla in tempo breve altrimenti ci torniamo tra pochissimo c'è un'altra battaglia per la pace quella da dedicare agli animali d'affezione che si sono ritrovati da un giorno all'altro senza casa così come gli esseri umani per carità senza i loro padroncini piccoli e grandi e adesso anche per loro per gli animali d'affezione cani, gatti eccetera Ucraini arriva un aiuto dalle Marche raccogliere cibo e prodotti per animali da portare in Ucraina è il lavoro che nelle ultime settimane le volontarie della sezione di Ancona della Leda stanno portando avanti in coordinamento con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Nazionale l'ultima raccolta lo scorso fine settimana ha permesso di riempire due carrelli i prodotti verranno inviati con la prossima spedizione sta andando molto bene le persone sono molto gentili e generose e capiscono la situazione e poi noi raccogliamo tutto questo cibo che poi sarà in scatolato messo e spedito poi o con mezzi particolari oppure con la protezione civile che fanno viaggi magari continuamente su al confine con la Polonia L'ultima consegna effettuata dai volontari della Leda Nazionale partiti da Bergamo risale allo scorso venerdì insieme al convoio organizzato dal comitato bergamasco i volontari hanno raggiunto Pzemischi città polacca al confine con l'Ucraina per consegnare una tonnellata di cibo accessori e mille dosi di antiparassitari destinati agli animali dei profughi ucraini e alle associazioni locali che si occupano dei randagi ma il lavoro non è finito con la consegna nel viaggio di ritorno la Leda ha portato in Italia anche 16 animali cani e gatti provenienti da un rifugio che accoglie animali fuggiti dai bombardamenti o rimasti senza padrone ora sono ospitati stalli provvisori dove saranno preparati alle adozioni alcuni di loro potrebbero arrivare anche nelle Marche dove la sezione di Ancona è già in contatto con due famiglie arrivate nel capologo d'Orico dall'Ucraina con animali a cui sta fornendo assistenza questo un altro piccolo gesto un'altra piccola goccia nel mare del bisogno che c'è certo prima vengono gli esseri umani poi gli amici animali anche se meriterebbero per il loro amore la loro generosità forse di essere messi al pari caro benzina svizzeri in coda a Como questo è incredibile per fare il rifornimento in Italia l'inversione storica di solito era il contrario l'inedito pendolarismo al contrario nella zona di confine è un effetto del taglio delle accise sul carburante deciso dal governo italiano ed è entrato in vigore ieri l'altro martedì 22 marzo per la prima volta grazie a questi tagli fare il pieno in Italia addirittura più conveniente che farlo in Svizzera hacker contro Trenitalia ieri in tilt i self-service e le biglietterie chiesto anche un riscatto di 5 milioni di euro colpevoli degli hackers russi stando a quanto hanno raccontato i giornali dove torno giornali locali giornali marchigiani vado a recuperare il sito del corriere scavalca la recinzione qui siamo nel lanconetano e minaccia di lanciarsi nel vuoto paura a Cardeto salvato dalla task force dei soccorsi il Cardeto è una zona molto bella molto naturale e panoramica del capoluogo regionale complimenti a chi è intervenuto vedete l'ambulanza vedete anche i vigili del fuoco in particolare complimenti voglio dirlo a chiare lettere al soccorso della Croce Gialla il personale del 118 e i vigili del fuoco Croce Gialla che insieme con le altre croci della provincia di Ancona ieri sono state omaggiate all'evento dell'Ancri per la Costituzione italiana a Sirolo donna scivola in una scarpata ritrovata dopo tre giorni pensate non era riuscita a chiedere aiuto siamo ad Esanatoglia scivola in un dirupo rimane isolata per giorni a San Cataldo di Esanatoglia senza riuscire a dare l'allarme è salva per miracolo una 58enne di Matelica che domenica era andata con la sua auto nella zona delle vene di Esanatoglia senza fare però ritorno a casa tre giorni da sola in questo territorio impervio ma è stata ritrovata viva andiamo a Pesaro per una storia di barriere architettoniche dopo Ancona e dopo Macerata eccola qua ufficio pubblico non accessibile 46 scalini per il passaporto mio padre mi ha portato in braccio vorrei parlarne con il sindaco perché questo non è giusto ad un certo punto il padre l'ha presa in braccio uno scalino dopo l'altro l'ha portata nell'ufficio comunale Giorgia Righi ha 23 anni vive a Gallo di Petriano e ha la atassia di Friedrich malattia degenerativa progressiva da quando ha 12 anni si è laureata nel 2021 in scienze motori da poco ha preso il diploma in mental coach le piacerebbe approfondire il mondo della psicologia applicata allo sport eppure per poter prendere un semplice documento un passaporto è stata costretta a farsi prendere in braccio dal padre così non si fa chiede un incontro con il sindaco e seguiremo assolutamente la vicenda buongiorno Maurizio puoi dirmi a che ora questa sera ci sarà il concerto del maestro Santini e della bambina ucraina grazie buongiorno a tutti da Gianluca grazie caro Gianluca per questa tua domanda questa sera alle ore 22 su etv canale 12 ma anche per chi non riuscisse a seguirci attraverso i canali televisivi tradizionali sarà anche in diretta facebook e streaming buongiorno Maurizio da Anna Maria grazie desideravo sapere se il costo del metano è calato purtroppo no vi abbiamo già spiegato che questo meccanismo non riguarda il metano e vi abbiamo anche raccontato di come gli svizzeri una piccola rivincita tutta italica siano venuti ieri e oggi a fare il pieno in Italia buongiorno con questa carta particolare ci scriveva Lucia eccola qua abbiamo il diritto a provare emozioni nessuna esclusa abbiamo il diritto di essere ascoltati compresi e rispettati quando esprimiamo le nostre emozioni molto lungo molto bello questo messaggio grazie per questo pensiero Lucia ha sempre un sentimento propositivo e positivo e questo mi piace davvero tanto 349 39 18 169 torno alle notizie di livello nazionale per parlare anche di covid 19 perché è vero che la situazione sta migliorando però il miglioramento si è affermato i contagi hanno ripreso non con vigore fortunatamente neppure dal punto di vista delle ospedalizzazioni però sentiamo il punto del presidente della regione Acquaroli il primo aprile si avvicina mentre i contagi continuano a salire anche nelle marche la data simbolo per le prime riaperture niente più green pass in bar e ristoranti all'aperto banche uffici postali parrucchieri ed estetisti arriva con la curva che punta in su sono 2616 nuovi casi il 44,3% dei 5907 test analizzati dei nuovi positivi 817 si registrano nel Lanconetano 506 nel Maceratese 447 ad Ascoli 401 in provincia di Pesaro Urbino 333 nel Fermano e 112 da fuori regione l'incidenza su 100.000 abitanti è a 1.191 più 13 rispetto al giorno precedente i ricoveri totali sono a 227 più 7 di cui 7 in terapia intensiva più 1 e 220 in area medica sono 34 le persone nel pronto soccorso più 1 in un giorno una vittima nell'ultima giornata si tratta di una donna di 80 anni di Fabriano i decessi totali sono 3678 nel contagio che corre sono le cure vaccini altri farmaci e la stagionalità del virus a far ben sperare ovviamente gli occhi sono puntati sul prossimo autunno proiettarci ad un'azione quella speriamo dell'autunno dell'inverno prossimo che seppur ci vedrà magari colpiti da una nuova variante o magari dal ritorno di questa variante attuale potremmo avere una capacità di reazione assolutamente diversa rispetto alle stagioni scorse questo è il punto nel servizio del collega Lucio Cristino mi fermo perché c'è il momento pubblicitario vi anticipo però che parleremo anche di sport tra pochissimo stasera l'Italia contro la Macedonia del Nord anche Vialli con gli azzurri andare oltre i limiti non so quanto vivrò ma non c'è mai tempo da perdere un messaggio forte quello dell'ex bomber della Sampdoria e della Juventus che ha vissuto sta vivendo una battaglia importante quella contro una severa malattia contro un cancro non ha mai perso il coraggio la speranza e il sorriso e ci ricorda che ogni secondo vada vissuto a pieno oggi se avete occasione chiedete scusa per qualcosa dite grazie per qualcosa dite ti voglio bene sono frasi che sembrano banali ma insomma la vita non è mai banale mi fermo a tra poco se avete piacere state con me dimas da oltre 30 anni è un punto di riferimento nella produzione e nella distribuzione di articoli per l'igiene prodotti di altissima qualità e attenzione alle necessità dei clienti dimas ha la soluzione professionale specifica per qualsiasi attività servizi commerciali realtà industriali bar ristoranti scuole uffici pubblici e privati case di riposo e studi medici vieni a trovarci nel nostro nuovo showroom un ampio spazio in cui sarà possibile testare e visionare i nostri prodotti e la nuova linea di mascherine camici tute visiere gelmani e detergenti per superfici formulati per contrastare l'emergenza coronavirus quello che tu trovi semplice noi lo troviamo difficile troviamo duro lavorare la terra con tutto il rispetto che merita troviamo duro coltivare votare tagliare e raccogliere i suoi frutti con orgoglio raccogliamo il nostro lavoro in 27 cantine in tutto il paese senza mai risparmiare sul tempo che un vino nasce dalla generosità quella che ci fa portare nelle tavole di tutta Italia un vino vero buono come il pane tavernello semplice non vuol dire facile per legno arredamenti affidati al nostro team di professionisti per realizzare la casa dei tuoi sogni siamo in grado di creare un progetto di arredo e design completamente innovativo visita il nostro showroom in via direttissima del Conero centro cucine armadi camere e camerette costruiti con materiali di qualità al miglior prezzo con 5 anni di garanzia per legno arredamenti professionalità e garanzia dal 1970 Workgate Italia da oltre 15 anni coordina l'attività di professionisti per offrire servizi specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per garantire il benessere produttivo privacy perché la tutela dei dati è sempre più a rischio formazione professionale se vuoi essere al passo con i tempi Workgate Italia ti accompagna in sicurezza verso l'innovazione e la crescita Workgate Italia per te Centro Commerciale Valdichienti la scelta con tutte le scelte a piedi ripa di macerata Fai crescere il futuro della tua azienda con FastWeb Business con il bonus connettività ricevi fino a 2500 euro di vantaggi per portare connessione sicurezza e cloud a un altro livello scopri di più in negozio o su fastweb.it è iniziata la riorganizzazione delle frequenze nelle regioni adriatiche sud Italia risintonizza la tv per continuare a guardare i tuoi canali preferiti per verificare la data esatta di avvio nel tuo comune vai sul sito chiama il call center o scrivici su whatsapp di nuovo insieme cari marchigiane umbre italiane ripartiamo con questa immagine bella e forte di Luca Vialli che ci ricorda come la vita sia da vivere a pieno non bisogna sprecare neanche un secondo si parla della partita di spareggio contro la Macedonia del Nord formazione Italia manca il nostro maestro anche oggi non sarà con noi Alessandro Tizzani quindi provo alla buona a leggere con voi un attacco Berardi immobile insignia un attacco che tra l'altro era stato schierato anche durante gli europei poi vinti dell'estate scorsa Bastoni guiderà la difesa ecco lì invece ci sarà una grossa differenza rispetto agli europei vinti mancherà la coppia Spaghetti e Mandolino Bonucci Chiellini perché entrambi acciaccati ci sarà Bastoni playoff mondiali stasera Italia ma c'è nel nord dove vederla la partita ma chiaramente penso sulla Rai adesso magari mi sbaglio Orsini a carta bianca e i 2000 euro appuntate il PD spiega la Rai non paghi i pifferai di Putin polemica sul contratto da 2000 euro appuntate le critiche del PD per le posizioni espresse dal docente di sociologia del terrorismo se quel post ti piace troppo fai attenzione sette consigli per riconoscere le fake news sulla guerra i consigli del New York Times e di Walter Quattrociocchi che da anni si occupa di disinformazione perché sono tante le notizie e non tutte sono avere bisogna verificare purtroppo questa è vera ed è orribile Caterina Dinacenco ginnasta undicenne uccisa dai Raid a Mariupol la ragazzina è morta nel crollo della sua casa insieme al padre stasera parleremo di una storia bellissima di speranza di vita di salvezza con la piccola Diana la musicista la pianista che ha aperto la festa per Pesaro capitale italiana della cultura 2024 salvata dalle bombe in questo caso di Kharkiv lei ce l'ha fatta ecco una ragazzina poco più grande di lei altrettanto talentuosa invece non ce l'ha fatta anche questo è il fronte anche questa è la guerra non possiamo non dobbiamo voltarci dall'altra parte ma siamo anche e soprattutto rassegna stampa Marche e Umbria e allora recupero le news dall'Umbria e dalle Marche per due notizie per certi aspetti simili Pesaro con un undicenne un dodicenne un tredicenne che preparano una bomba all'acido rudimentale pensa un po' una roba incredibile ma vero mentre invece che cosa succede a Perugia una baby gang mi ha aggredito calci e pugni per rubarmi portafogli e collana la denuncia su Facebook di un uomo che posta un selfie con una garza sul viso prima di andarcene da Perugia dovevamo conoscere pure le botte della baby gang il post comparso mercoledì sera sulla pagina Facebook di un uomo che denuncia di aver subito un'aggressione in città potrebbe trattarsi di una rapina considerato che tra i vari commenti a chi chiedeva cosa fosse accaduto risponde calci e pugni per rubarmi portafogli e collana si parla dei giovani e di questi continui episodi di cronaca e di micro criminalità che li coinvolgono dall'Umbria faccio un parallelo anche se la vicenda da un punto di vista di cronaca è diversa ma altrettanto sono coinvolti minori qui addirittura talmente minori che non sono neanche imputabili perché sono sotto i 14 anni il primo messaggio mi chiedeva ma com'è possibile che non pagheranno la legge è chiara in Italia sotto i 14 anni non si può essere imputati hanno 11 12 13 anni e non sono appunto imputabili hanno ammesso tutto alla polizia l'abbiamo visto su YouTube e volevamo provare quando ieri è uscita la notizia io avevo buttato lì purtroppo avevo ragione che questa roba qua potesse essere frutto di un video che sui social qualche insomma qualcuno per non fare per non lanciare epiteti potesse poi aver messo in pratica perché oggi purtroppo su YouTube su Facebook ovunque sui social trovi informazioni anche per realizzare ordini una bomba all'acido volevamo provare questo hanno spiegato e hanno giustificato la scelta di mettere questo ordigno vicino alla scuola come una scelta casuale non c'era nessun messaggio da mandare alla scuola non c'era nessun tentativo di fare del male ad alcuno questo purtroppo è uno dei titoli peggiori in 16 anni di rassegna stampa davvero a proposito di minori in fuga in questo caso dalla guerra sono tanti i bambini minorenni non accompagnati dai loro genitori che sono però riusciti a scappare ad arrivare fino in Italia nelle marche facciamo il punto su questo abbiamo da una quindicina di giorni dei grandi arrivi di minori non accompagnati ucraini che spesso sono soli o sono accompagnati da rappresentanze di associazioni varie o sono con vicini di casa o sono con parenti che quindi non ne hanno la legale rappresentanza e rientrano sempre la definizione di minori stranieri non accompagnati in una minoranza dei casi sono in compagnia di uno dei due genitori generalmente la madre perché i padri sono arruolati in guerra sono una cinquantina al momento i casi di minori in fuga dalla guerra arrivati nelle marche all'attenzione dell'autorità giudiziaria minorile gli step prevedono la nomina di un tutore e la gestione dell'accoglienza prima di tutto però è necessario identificare i minori non accompagnati vale per gli ucraini vale per i pakistani stipati nei camion al porto la questione è stata al centro di un protocollo firmato nella prefettura di Ancona con la magistratura minorile la regione con il governatore Acquaroli i sindaci con Lanci Marche rappresentata da Valeria Mancinelli i cinque prefetti dare un'identità a un minore straniero non accompagnato sul territorio significa dargli tutta una serie di diritti e questo deve essere fatto nel migliore dei modi con la sinergia di tutte le amministrazioni di tutti i soggetti che collaborano nelle marche dati rielaborati dalla regione sono circa 150 i minori stranieri non accompagnati nel 2021 lontano dai tempi della massiccia ondata migratoria Ucraina Bangladesh Albania e Pakistan i paesi di maggiore provenienza questo è il tema dei minori in fuga dall'Ucraina 50 bimbi non accompagnati poco fa avevamo parlato del primo aprile e non è uno scherzo è dal Green Pass alla quarantena perché oramai ci siamo è giovedì 24 dal primo di aprile quindi settimana prossima cambia musica dal Green Pass alla quarantena tutte le novità dal primo aprile in 10 domande e risposte è una notizia che trovate sul Corriere della Sera e quindi è anche sul sole 24 ore da qui la pesco per cui è assolutamente attendibile via libera lo ricordiamo del CDM cioè Consiglio dei Ministri sul nuovo decreto con il calendario del ritorno alla normalità dal primo maggio il Green Pass bye bye primo maggio però non primo aprile e dovrebbero essere abolite anche le mascherine al chiuso a meno di proroghe sempre però dal primo di maggio quindi il grande cambiamento in realtà avverrà dal primo maggio già però dal primo aprile qualche cosa cambia che cosa per esempio in quali luoghi non sarà più necessario il Green Pass dal primo maggio il Green Pass sarà abolito ovunque fino a quando e dove resta l'obbligo del Super Green Pass risponderemo tra poco a tutto questo anche a come cambia la quarantena perché se è vero come è vero che oggi se io vaccinato e faccio il mio esempio personale vado a contatto con una persona positiva non devo andare per forza subito in quarantena un positivo invece deve comunque anche assintomatico andare in quarantena ma quando questo finirà quando anche in Italia perché ci sono dei paesi nel mondo dove anche un positivo Covid può tranquillamente continuare la propria vita a meno che non abbia la febbre se c'è la febbre devi stare a casa però un asintomatico positivo Covid in altri paesi del mondo può continuare ad andare a lavorare ad andare a giocare a fare lo sport che gli pare un po' come capita a noi con l'influenza come capitava a noi con l'influenza prima dell'arrivo del Covid-19 vi faccio il punto su questo tra pochissimo perché prima vorrei recuperare le notizie di livello nazionale e internazionale anche per capire se siano cambiate le prime pagine rogo vicino a Chernobyl questa è l'apertura del Corriere della Sera bombe al fosforo questa è l'accusa pesantissima perché le bombe al fosforo sono illegali sulla regione di Lugansk armi chimiche ancora una volta gli Stati Uniti lanciano l'allarme la minaccia delle armi chimiche che potrebbe utilizzare la Russia è reale io avevo preparato anche un video molto duro con questi 30 giorni questo mese di guerra è un video che colpisce al cuore ve lo proporrò eventualmente più avanti sono 7 minuti di immagini terribili buongiorno Maurizio sereno giovedì a tutti grazie Ambretta Fera Maurizio grande ritardo scusa nessun disturbo e nessuna scusa anche in un momento anche all'ultimo minuto dovreste collegarvi con noi per ne sempre un minuto prezioso l'appello di Zelensky oggi ad un mese dall'inizio della guerra protestate scendete in piazza questa sera noi nel nostro piccolo faremo un piccolo gesto scusate se ho ripetuto piccolo perché insomma non vogliamo prenderci troppi meriti stasera alle ore 22 un piccolo concerto per la pace grazie al maestro Marco Santini e soprattutto alla piccola grande Diana bimba ucraina scappata dalle bombe cadute su Kharkiv e sarà con noi questa sera abbiamo messo un pianoforte in studio voglio ringraziare in particolare Rossini Lorenzo Rossini che ce l'ha permesso tutto questo e poi col sorriso di Daniela faremo un piccolo gesto di donazione per Diana e per la famiglia e in questo caso voglio ringraziare davvero di cuore Paride Pacetti figlio dico tanto padre di Tarcisio che ha messo ancora una volta il suo cuore e la sua azienda a disposizione nostra 349 39 18 169 ci sono anche altre notizie che possiamo affrontare insieme con voi per esempio questa l'abbiamo trattata in questi giorni è stata molto commentata ed è giusto aggiornarvi Fedes e Chiara Ferragni uniti nel dolore il rapper è stato operato all'addome dopo l'annuncio di qualche giorno fa ho un problema di salute fortunatamente ho la mia famiglia che mi sta vicino grazie a tutti quelli che mi vogliono bene ieri il rapper è stato operato all'addome continua dunque anche una sorta di speculazione su quella che può essere la malattia che ha colpito Fedes a me non frega nulla della malattia che ha colpito Fedes frega interesse e mi piace che ci sia questa voglia di esprimergli affetto solidarietà ma così come riguarda lui è giusto stare vicini anche noi nel nostro piccolo microcosmo a un amico una persona che stia poco bene facciamoci sentire caro benzina questa è clamorosa svizzeri in coda a Como quindi valicano la frontiera per venire a fare il pieno da noi in Italia questa è l'inversione storica dovuta al cambio di normative grazie al decreto energia di Draghi annunciato settimana scorsa è entrato in vigore ieri l'altro 22 di marzo 25 centesimi più 5 di IVA quindi circa 30 centesimi di sconto purtroppo non sul metano e su questo in tantissimi mi stanno scrivendo piuttosto arrabbiati e anziché no doveva scattare anche per il metano sinceramente sono d'accordo torniamo alle notizie marchigiane e umbre studiate le traiettorie del meteorite le esplosioni il vento eccetera si è capito che il meteorite è caduto sulle marche gli scienziati sono certi nelle marche è avvenuto il punto di caduta ecco dove cercare fortunatamente intanto non è caduto in testa a nessuno però siamo nella zona di Cupra Marittima se voleste andarvi a cercare un frammento di meteorite che ne so per fare un ciondolo per fare un fermacarte un soprammobile alcuni frammenti della meteora che lo scorso 5 marzo ha illuminato i cieli italiani ed è stata osservata da migliaia di persone potrebbe essere caduto nei territori di Cupra Marittima ed intorni ad affermarlo l'istituto nazionale di astrofisica in un documento nel quale ha stimato che la traiettoria del bolide possa aver interessato queste zone se siete interessati andate a verificare andiamo ad altre notizie locali attenzione controlli telelaser anche di notte grazie al flash hanno messo il flash nelle macchinette che ci fanno le foto per la multa ma questa veramente è una grossa scortesia multe al semaforo con le telecamere siamo a Senigallia sicurezza stradale garantita anche di notte con l'acquisto del flash per il telelaser questa è cattiveria è proprio cattiveria amiche amici di Senigallia attenzione non c'è scampo per chi sfreccia di notte perché l'acquisto del dispositivo consentirà per la prima volta di monitorare la velocità sempre a qualsiasi ora anche by night facendo seguito ad una richiesta dall'amministrazione comunale scusate se sorredo però effettivamente che abbiano messo il flash alla macchina fotografica della della multa mi mancava è a Senigallia attenzione torno invece ad un'altra questione delicata delicatissima saltata la norma che consentiva di sospendere i lavori per i caro prezzi niente tutela ora bloccheremo i cantieri rilancio dell'edilizia rilancio dell'economia al settore serve mano d'opera per far fronte alla mole di lavoro che arriva dalla ricostruzione del sisma dal super bonus 110 dal PNRR avete un cantiere state cercando un'azienda ecco quali sono i problemi tutto ciò si sta dimostrando una casa di carta il rialzo dei costi delle materie prime ha fatto saltare il banco tant'è che quando il presidente Ance Violini ha chiesto la risposta rispetto al PNR non ne parlo perché non è attuabile ad oggi tutte le prospettive di crescita sono svanite settore dell'edilizia in tilt rischio blocco dei cantieri sempre più concreto scudo vaccino sui recovery covid in terapia intensiva 4 persone oramai su 10.000 contagiati un anno fa dati completamente diversi ecco il raffronto e questa notizia con leggerezza e senza dire ve l'avevo detto c'era chi aveva ragione e chi aveva torto la leggo anche per aiutare chi ancora oggi sostiene ritiene che il covid non sia esistito che sia stata tutta una bufala una fregnaccia e che soprattutto i vaccini non abbiano tratto giovamento un anno fa di questi tempi con le marche in zona rossa il coprifuoco dalle ore 22 e un sostanziale lockdown il virus circolava con una frequenza quattro volte inferiore a quella attuale quattro volte inferiore ed eravamo nei pasticci oggi il virus circola quattro volte di più e perché solo quattro ricoverati in terapia intensiva è frutto è il merito dei vaccini questo lo dicono i numeri poi ognuno si fa la propria opinione ma non si può soppesare allo stesso modo la scienza i dati oggettivi l'occupazione o meno degli ospedali da opinioni pur assolutamente rispettabilissime torno un attimino alle notizie di livello regionale perché questa l'abbiamo raccontata i city angels chi sono alla luce anche di queste notizie di cronaca che sempre più coinvolgono la microcriminalità e allora bottiglie bomba autori tre bimbi qui siamo purtroppo a Pesaro in Umbria una baby gang che aggredisce un turista calci e pugni per rubarmi portafogli e collana oltre al lavoro in mane delle forze dell'ordine arriva il contributo dei city angels questo gruppo di volontari che disarmati chiaramente però pattugliano per il bene della collettività le nostre città e comunità sentiamo un po' perché mi è stato consigliato un po' perché leggendo la storia ho visto che era una buona iniziativa volontariato però una forma più particolare in quanto opera in tutti i settori quindi cerca di aiutare un po' tutti dalle vecchiette alle persone senza tetto comunque a tutto io ho sempre fatto volontariato e questo mi sembrava un volontariato diverso perché non fa solo volontariato ma anche sicurezza e quindi questo mi ha dato un incentivo in più per appunto conoscere la mia città anche abbiamo 13 volontari ed ancora dai 18 ai 60 anni c'è una prevalenza femminile e c'è di tutto ci sono studenti ci sono operai impiegati disoccupati professionisti è uno specchio della società ma nei City Angels non c'è nessuna differenza tra uomini e donne italiani o stranieri ricchi e poveri siamo tutti uguali tutti angeli 7 donne e 6 uomini sono i primi 13 City Angels che si metteranno in attività per le strade di Ancona da venerdì prossimo dalle 20 alle 23 e sabato dalle 16 alle 19 si è concluso il corso formativo dell'associazione che si batte per prevenire criminalità e povertà una forma di volontariato ma non solo manca ancora una sede ma l'assessore alla partecipazione democratica del comune Stefano Foresi presenta la consegna dei diplomi post formazione ha garantito l'impegno nel trovarne una per i nuovi angeli dorici è partito tutto dal dal nulla ovviamente mi sono trovata prima in una situazione più grande di me dove non sapevo come fare come tutti voi sapete la mia storia ho voluto trasformare qualcosa di brutto in qualcosa di bello e questa associazione mi ha dato tanto opera soprattutto col cuore dai prossimi giorni comincerete a vederci sulle strade di Ancona i nostri primi 13 volontari donne e uomini persone motivate preparate con un grande cuore e quando vedrete ad Ancona basco blu e giubba rossa sappiate che quello è il vostro angelo questo è l'iniziativa dei City Angels iniziativa partita in quel di Milano che poi si è diffuso un pochettino in tutta Italia è arrivata anche nel capoluogo regionale torniamo sul fronte di guerra purtroppo che si combatte non solo con le bombe anche con queste strategie con queste dinamiche cosa sta succedendo nel Mar Nero attenzione le navi con il grano bloccate da Putin nel Mar Nero la von der Leyen Ursula von der Leyen ha chiesto in maniera diciamo decisa che le lasci andare la presidente la von der Leyen della commissione UE un centinaio di navi che portano grano in Europa bloccate dai russi Putin le lasci andare o sarà responsabile anche di carestia e fame c'è anche la nostra farina c'è anche il nostro pane in divenire su quelle navi e questo lo mostro questo articolo anche ancora oggi a beneficio di chi ha il dubbio se non addirittura sia convinto che Putin sia dalla parte del giusto e arrivano anche qui al 349 39 18 19 queste notizie blocca le navi con il grano in arrivo dalle nostre parti per fortuna ci siete voi che alleggerite sempre il peso greve delle nostre notizie bella quella macchina è tua beh non sempre chiede un vecchietto all'altro dice l'altro non sempre la macchina è mia per lo shopping è di mia moglie quando c'è da andare allo stadio è di mio figlio per andare in discoteca è di mia figlia quando è finita la benzina la macchina è effettivamente mia carinissima questa battuta grazie che bello poi ci scrivano immagino che non sia riferito a me chiaramente ma a qualcosa che è stato condiviso tramite una foto andiamo a verificarla da giungla urbana a oasi verde la rinascita di via maestri del lavoro grazie a due residenti giardinieri una sorta di magia ecologica a pochi passi dal teatro panettone creata da Roberto Bob De Santis e Francesco Sciviglia hanno reso lo spazio attorno a due palazioni del Q2 più ospitale con sedie tavolini streccionate e altalene abbiamo voluto fare un regalo al nostro quartiere tra l'altro la questione dei giardini o comunque delle piccole dei piccoli orti comunali è tornata di gran moda ci sono dei personaggi sui social che sono diventati famosi molto famosi e sono seguite da decine e decine di persone le loro istruzioni i loro video interessante questo gesto che è stato condiviso con noi tra poco sul fronte della benzina io poco fa ho rivolto un appello ai datori di lavoro immagino che sia stato soprattutto inascoltato però ci riprovo c'era uno che diceva sì come se i datori di lavoro guardassero i tv o ieri ho scoperto che una persona davvero importante sul nostro territorio colui che rappresenta lo stato italiano sul territorio di Ancona ogni tanto con grande bontà da parte sua segue la trasmissione quindi non è detto che ci siano o non ci siano grandi imprenditori che ci seguono in questo momento allora caro imprenditore cara imprenditrice potresti oggi cambiare la giornata di un tuo lavoratore facendolo lavorare anche meglio affezionarsi di più all'azienda dando cioè il bonus carburante da 200 euro è da mo' che faccio questo appello ci provo e ci riprovo sono 200 euro esentasse previsti dal bonus benzina voluto da Draghi annunciato settimana scorsa come funziona? il datore di lavoro dà 200 euro in busta paga al lavoratore che non ci deve pagare sopra le tasse sono 200 proprio 200 erimi 200 fossimi il datore di lavoro che vantaggio fiscale ha? ha una piccola detrazione sono costi tu hai un costo e quindi puoi scaricarlo ma in più soprattutto che clima si crea? un clima di collaborazione di impegno reciproco di voglia di condividere il futuro vi ho convinto? temo di no benzina a taglio del prezzo da oggi meno 25 centesimi fino a fine aprile perché un'Europa potrebbe scattare anche il razionamento e poi il gas cinque volte i prezzi più alti in un anno ecco perché serve una risposta europea mi dovrei fermare giusto il tempo per riepilogare qualche notizia e per l'Umbria e per le marche ricordiamo che il Corriere dell'Umbria giustamente da giorni apre con le notizie di livello nazionale e internazionale ma anche con la cronaca locale allora è in congedo retribuito per assistere la nonna ma va in vacanza anestesista finisce a processo prendeva i permessi della 104 per andare in vacanza a Bangkok insomma non è proprio una roba bella dai per quanto riguarda invece le marche un'altra notizia che scegliamo così poi vi farò il punto eh su cosa cambia dal primo di aprile ormai ci siamo siamo al 24 di marzo una donna che scivola in una scarpata ritrovata dopo tre giorni non era riuscita a chiedere aiuto ma è stata trovata miracolosamente ancora viva parleremo anche di sport tutto questo a tra pochissimo la casa del materasso centro pernaflex il centro pernaflex più grande delle marche più di 350 metri quadrati di esposizione personale altamente specializzato a disposizione per ogni esigenza centro pernaflex ad Ancuna in via Ponte Lungo 87 Workgate Italia da oltre 15 anni coordina l'attività di professionisti per offrire servizi specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per garantire il benessere produttivo privacy perché la tutela dei dati è sempre più a rischio formazione professionale se vuoi essere al passo con i tempi Workgate Italia ti accompagna in sicurezza verso l'innovazione e la crescita Workgate Italia per te anche differenziare i rifiuti è un talento differenziare i rifiuti è un dovere civico e fa bene all'ambiente i tuoi rifiuti possono essere davvero una risorsa metti un po' d'arte nel fare la raccolta differenziata e aumenterai il tuo tenore di vita parola di David Mazzoni Campagna istituzionale di Ancona Ambiente per i comuni di Ancona Cerreto Daisy Fabriano Sassoferrato Serra dei Conti SEMA Tende Infissi è a Castelfidardo assistenza riparazioni e vendita infissi in legno PVC o alluminio tapparelle e persiane porte da interno e portoni blindati in classe 3 con kit termico e acustico completi di pannello interno ed esterno montaggio in giornata SEMA Tende Infissi per vivere il tuo giardino d'inverno progettazione di tende da sole pergole gazebo bioclima con resistenza al carico neve unici in Italia predisposizione per luci LED di chiusure perimetrali in PVC o vetrate SEMA Tende Infissi è a Castelfidardo in Contrada San Pellegrino 20 Sono Simone sono uno dei due titolari di ambienti da tempo progettiamo le vostre case a partire dalla zona giorno alla zona notte i nostri marchi più importanti sono la Lube la GSG e Lettissimi Sono Silvia la designer di ambienti vi aspetto in showroom per realizzare e progettare l'arredamento per la vostra casa di nuovo insieme cari marchigiane umbre italiane cari tutti coloro che ci seguono ci scrivono partecipa la Buongiorno TV sei in onda anche tu ringrazio i colleghi Matteo Delicato e Filippo Pesaresi che sono già qui in studio per organizzare questo concerto di pace ad un mese esatto dall'inizio della guerra in Ucraina che vedrà protagonisti questa sera alle ore 22 la piccola grande Diana pianista straordinaria scappata dalle bombe di Kharkiv e il maestro Marco Santini sarà l'occasione eccola là per fare anche un piccolo gesto da parte del sorriso di Daniela una donazione che l'associazione voluta fortemente dal nostro compianto Franco Grasso farà per lei e per la sua famiglia grazie in particolare a Gabriella Frontalini in Storani per questo gesto voglio nel contesto mandare un bacio un abbraccio grande un abbraccio quindi una sorta di crasi un bacio un abbraccio grande a colui che ha reso possibile questo strumento questo assegno che consegneremo e voglio citare Paride Paccetti figlio del grande Tarcisio che è un'azienda importante che è anche lui sostenitore della nostra associazione da tempo oramai con piccoli e grandi gesti ripartiamo ripartiamo dal via ancora una venticinquina di minuti insieme con le news dalle Marche dall'Umbria dall'Italia arrivate a Muccia le prime famiglie accolte dalla Andrea Bocelli Foundation una comunità terremotata che si sta risollevando a proposito stasera alle 21 prima del concerto di Pace Sibilla le voci della ricostruzione con la collega Linda Cittadini che tanto si è occupata di post-sisma sia per le Marche sia per l'Umbria ecco le popolazioni colpite dal sisma che sanno però capire le problematiche di chi ha vissuto un terremoto da un punto di vista in questo caso della guerra e sono le prime ad accogliere minori in fuga via dalla guerra anche con i vicini di casa sono 50 i bambini scappati dalla guerra arrivati nelle Marche per loro una importante messa a terra di strategie strumenti anche di aiuto e di soccorso vado anche però alle notizie dall'Umbria qui siamo sul sito dell'Ansa perché proprio sul fronte del terremoto c'è un aggiornamento sindaco di Norcia condannato per casa Ancarano una vicenda che aveva fatto molto discutere il tribunale ha disposto anche la demolizione di parte della struttura costruita velocemente con delle deroghe inevitabilmente per il post sisma condannato dal tribunale di Spoleto ad un anno e tre mesi di reclusione e 60.000 euro di ammenda il sindaco di Norcia Nicola Lemanno per la vicenda di casa Ancarano il centro polivalente realizzato dopo il terremoto del 2016 è un oggetto d'indagine della procura di Spoleto un'altra notizia che aveva colpito molto non solo gli Umbri ma anche i marchigiani restiamo sul locale è in congedo retribuito per assistere la nonnina ma invece andava in vacanza anestesista finisce a processo lo racconta il Corriere dell'Umbria prendeva i permessi della 104 per andare in vacanza a Bangkok non vi dico i commenti che sono arrivati al 349 3918 169 buongiorno Mauro grazie sarebbe Maurizio ma uguale va benissimo anzi Mauro mi piace un sacco per cui grazie di cuore mi fa molto piacere ieri sera una mia carissima amica Giuliana lo dico in diretta ieri non ho avuto il coraggio di dirlo al teatro di Sirolo in presenza del maestro Santini mi chiamava Andrea e io dicevo sì sì come no Andrea ti ricordi come no ma certo non è un problema il nome non conta conta ciò che c'è dentro diceva Shakespeare una rosa resterebbe una rosa anche se non la chiamassi rosa buongiorno Maurizio a te allo staff agli ascoltatori tutti auguro di essere un bel dono di speranza preghiamo per la pace grazie cara Cecilia Marinelli a proposito di pace questa sera alle 22 come avevamo anticipato un concerto di pace il maestro Santini la piccola grande Diana che voglio farvi conoscere un pochino meglio in questo servizio le mani si muovono veloci sui tasti bianchi e neri gli occhi vispi e concentrati disegna note e affida loro i suoi sogni che la guerra a casa in Ucraina finisca presto il pianoforte del suo scudo il suo rifugio soprattutto il suo talento è una speranza di pace nella festa in piazza a Pesaro per la nomina a Capitale Italiana per la Cultura 2024 Diana Dvalishvili nove anni scappata con la famiglia dai bombardamenti russi su Kharkiv dove c'era la sua scuola di pianoforte e ora una studentessa al conservatorio Rossini di Pesaro dopo l'annuncio al Ministero della Cultura della scelta di Pesaro il sindaco Matteo Ricci aveva dedicato la vittoria nella competizione con altre nove città finaliste proprio a Kharkiv città creativa della musica come Pesaro la storia di Diana era stata condivisa su Facebook a inizio marzo dall'assessora al porto del comune di Ancona Ida Simonella che aveva postato foto e un video della bimba al piano e dalla sindaca Valeria Mancinelli ricordando il legame tra Pesaro e Kharkiv l'assessora aveva contattato il sindaco Ricci che insieme al vice sindaco Daniele Vimini aveva messo in piedi un'operazione velocissima per accogliere Diana e sua sorella operazione riuscita operazione che oggi potremo vedere in un nuovo capitolo perché Diana sarà con noi questa sera grazie anche al maestro Santini che la accompagnerà e proprio da Pesaro ci scrivono buongiorno a tutti con il panorama dalla mia finestra Sara grazie viva Pesaro che accoglierà questa piccola grande pianista e complimenti che bell'ambiente insomma le marche che siano belle non c'è dubbio se ci volete mandare anche foto dall'Umbria siamo molto molto contenti attenzione torniamo alle notizie nazionali e internazionali purtroppo i russi distruggono un ponte fondamentale di collegamento alla capitale se ne vede un pezzo sulla stampa è stato pubblicato uno scatto fotografico ancora più duro e crudo intanto il fronte nord della resistenza sarà il cimitero dell'armata russa queste le parole dure da parte di chi sta combattendo sulla fronte guerra russia-ucraina la denuncia bombe al fosforo su Lugansk la strage degli innocenti uccisi 128 bambini ogni giorno la conta aumenta un mese di guerra come abbiamo raccontato oggi è il 24 di marzo e il 24 di febbraio cominciava questo incubo per l'Ucraina per l'Europa per il mondo intero vi faccio vedere parte di questo video è stato fatto per l'Ucraina per l'Ucraina speciale operazione l'Ucraina 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 non si pote chi si ma tu todo Kunduz Questo è un civile che ferma un carro armato. C'è una base militare attraverso la strada e fu fuori. E questi sono solo alcuni giorni, alcuni effetti dell'orrore che sta vivendo il popolo ucraino. 349 39 18 169, torno ora alle notizie locali dopo un paio di news dall'Umbria, riparto dalle Marche e da Ascoli e San Benedetto del Tronto con l'edizione del Carlino. In primo piano l'autopsia sul corpo di Pignotti, eseguito l'esame per il buttafuori, venuto a mancare sabato sera per un improvviso malore. Oggi si terranno i funerali. Niente cinture e sorpasso. Jacopo Bacchetti, ecco la perizia. Le conclusioni del tecnico sullo schianto che nel novembre del 2020 causò la morte del barman. I ragazzi erano in tre col tettuccio aperto. Una storia che aveva colpito molto la comunità. La cronaca ancora sempre da Ascoli. Pedone investito da un autobus in pieno centro. L'uomo è stato colpito mentre attraversava all'incrocio di Corso Vittorio Emanuele. Abbiamo un'altra notizia, stavolta dal Carlino di Ancona, che ci parla degli effetti del caro Bollette. Un operaio, questo è il racconto che cambia vita e vende tutto. È la scelta di Alessandro Belardinelli, che lavora nella fabbrica Whirlpool di Fabriano. È tornato alla stufa a legna, quindi ad accendersi il fuoco, ed ha rinunciato a Camper e Vespa. Ha venduto tutto proprio perché oramai era impossibile altrimenti far fronte alle spese. Il Covid nelle marche, l'abbiamo detto, abbiamo anche sentito il presidente della regione Francesco Acquaroli su questo tema. Contagi giù, ma sale l'incidenza. Attenzione, non bisogna abbassare la guardia. Io su questo vi avevo annunciato e promesso, ed ecco il punto, cosa cambia dal primo di aprile. Perché ragazzi ci siamo, siamo al 24 di marzo, tra una settimanella via libera, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, si tornerà a respirare un pochettino di più la normalità. Allora, per esempio, in quali luoghi e a partire da quando non sarà più necessario il Green Pass? Questo famigerato Green Pass, che è una scocciatura anche per chi ce l'ha, eh? Perché tiro da fuori, o mi sono scordato il cellulare, aspetta il cartaceo dove l'ho lasciato, mi si è scaricato il telefono, stavo per entrare al ristorante, come faccio? Devo caricare, aspettare che si riaccende. Dal primo aprile non sarà più richiesto nessun tipo di Green Pass, né base né rafforzato, per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all'aperto, così come per le attività sportive sempre all'aperto. Niente Green Pass anche per accedere a negozi e attività commerciali, sempre dal primo aprile. Uffici pubblici, poste, banche, musei. Oltre che per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale, come metropolitane, autobus e tram. Nessun tipo di Green Pass già dal primo aprile, anche negli hotel, solo chi vi alloggia potrà utilizzare però il ristorante senza certificato verde. Ergo, da qui capiamo che al chiuso, fino invece al primo di maggio, sarà ancora necessario per poter mangiare una bella bistecca, una frittura di pesce, una pizza al chiuso, servirà fino al primo di maggio ancora il Green Pass. Un pochino di meteo dai per le Marche e per l'Umbria. Giovedì 24, oggi bel tempo, con temperature anche miti, anzi mitiche. 20 gradi sul Pesarese, ragazzi, meraviglia. 21 gradi la massima su Terni, amici amici, quindi delle Marche e dell'Umbria. Per sabato e domenica, ve l'abbiamo già detto, sarà bello. Sabato e domenica altrettanto, saranno temperature magari un pochettino più in calo rispetto ai 20-21 gradi, però comunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Pesaro che viene pubblicata da questa foto, un nuovo giorno, speriamo ci sia presto la pace. Da poco che ti seguo, sei bravissimo, grazie insomma, e si vede che è da poco perché ci dici che siamo bravissimi. Più andrà avanti, più ti accorgerà, insomma, scherzo ci fa piacere. Richiamo da Pesaro, ci tieni informati un po' di tutto, è un piacere seguirti, grazie. Un bacio grande, mi fa molto piacere quando arriva una nuova o un nuovo teleradioascoltatore. Nel frattempo alcuni li abbiamo persi, però solo per poco. Buongiorno, Maurizio, qui a Loretto non vi vedo più da diversi giorni. Puoi scrivermi il canale, grazie, 12. Canale 12, quello era e quello è. Sono giorni di rivoluzione, grazie all'HD, quindi la possibilità di vederci ancora meglio. Prova a risintonizzare. Se non riesci a risintonizzare fino a domani, perché domani dovrebbe essere il ritorno alla normalità, allora forse c'è un problema di strumentazione, allora forse il tuo televisore è un pochettino vecchiarello, per non dire di peggio, e servirebbe in quel caso un decoderino da 20-25 euro. Questa è fantastica, ci scrivono, vediamo un po'. Putin in Russia fa visita ad una scuola per parlare del patriottismo, delle grandi prestazioni del popolo russo. Alla fine i bambini possono fare due domande al presidente. Igor dice, ho due domande, sarà una barzelletta, vediamo. Uno, perché la Russia ha attaccato l'Ucraina? Due, perché la Russia vuole impossessarsi dell'Ucraina? Buone domande, dice il presidente Putin, ma proprio in quel momento suona la campanella e i bambini devono uscire dall'aula. Al rientro dalla pausa e ricreazione, Putin riprenderà la parola e chiede, avete altre domande? Sasha alza la mano e dice, mi chiamo Sasha, anche io ho due domande. Uno, perché il campanello della ricreazione ha suonato con 20 minuti di anticipo? E due, dov'è Igor? Insomma, questo per darvi la prova di come in Russia, purtroppo magari fosse una battuta, in Russia il clima è pesantissimo. Non ci dimentichiamo che non si può neanche pronunciare la parola guerra, si parla di operazione militare speciale. Alla faccia, l'abbiamo vista poco fa, l'operazione militare speciale. Eliana, buongiorno ai tv, buongiorno Maurizio. Un altro minutino, dai, di operazione militare speciale. Vediamocela. Questa non è neanche stata dichiarata guerra dalla Russia verso l'Ucraina. Anche questo scatto è stato fatto. Questa zaporisce alla centrale nucleare il missile caduto a pochi metri dall'aeratore. Kiev, la capitale. Tra l'altro con la neve. Con l'Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. La gente in fuga, con i bambini in braccio. L'esplosione è questa che... Ha ucciso una mamma. C'è il bombardamento in corso. Queste sono persone che stanno scappando. Poco fa è caduto un mortaio. È morta una famiglia, quindi non possiamo stare qui. Avete sentito il bombardamento? Operazione militare speciale. 9 e 22 minuti. Torniamo ad un riepilogo delle principali notizie anche attraverso il nostro sito etvmarket.it che racconta come siano arrivate a Muccia le prime famiglie accorte dalla Andrea Bocelli Foundation. I primi bambini ucraini o su questo anche un servizio. Tra poco ve la vado a recuperare. Lavoratori irregolari allo studentato Unicam al Via. Il processo. Altra notizia che viene da Camerino. Minori in fuga via dalla guerra anche con i vicini di casa che li hanno presi e portati in salvo. Torniamo al Corriere Adriatico. Anche qui poche notizie rispetto a quelle che vi abbiamo già dato ma importanti. Questa viene da Senigallia. Mi sono permesso già di leggerla perché è particolare. Controlli telelaser anche di notte. Attenzione. Grazie ai flash che sono stati piazzati sopra le telecamere. Quelle che ti fanno la foto e la multa di conseguenza. Multe al semaforo con le telecamere. Sicurezza stradale garantita anche al buio. Con l'acquisto del flash per il telelaser. Non c'è scampo per chi sfrezza di notte perché l'acquisto del dispositivo consentirà, amici e amici di Senigallia, per la prima volta di monitorare la velocità sempre a qualsiasi ora. Occhio per cui a chi diceva sì ma tante notte è spento. No, no. Saranno accesi anche di notte i telelaser nella zona di Senigallia. Studenti con la febbre dopo la festa dei cento giorni. I tamponi allontanano l'incubo covid però. È solo tra virgolette influenza ma è un'influenza più cattiva, più forte rispetto al passato. Una situazione che si è verificata a Fabriano, l'ultimo episodio, ma anche a Iesi e Senigallia. Se è possibile però la notizia che più ha colpito la comunità marchigiana è questa qua. Anche gli Umbri. Bottiglie bomba, autori, tre bimbi. Hanno 11, 12 e 13 anni. E non sono nemmeno imputabili vista la loro minore età. Hanno ammesso tutto alla polizia. L'abbiamo visto su YouTube. Volevamo provare. Abbiamo visto su YouTube come si fa una bomba all'acido. Volevamo così fare una prova. La scelta di metterla nei pressi di una scuola è stata casuale solo per miracolo. Non c'è stata una tragedia. 349 39 18 16 9. A proposito di notizie dal Pesarese. Intanto stamattina ci avete scritto di questo. Voglio tornare su un tema secondo me importante e utile. Eccola qua. Intanto bottiglie, bomba a scuola, tre bambini, i responsabili. C'è la questione anche dei ragazzi con reddito di cittadinanza che sono stati messi a lavoro per la pulizia del parco Miralfiore. Partita la sperimentazione del comune, interessata anche l'area del monumento della resistenza. Quante volte abbiamo sentito da parte giustamente vostra dire ma bisognerebbe far lavorare queste persone, fargli fare delle cosine a chi prende il reddito della cittadinanza. A Pesaro questa proposta è realtà per la pulizia del parco Miralfiore. Buongiorno Maurizio, volevo chiederti fino a quando è valido il Green Pass sul luogo di lavoro con tutti questi cambiamenti? Non l'ho capito. È uno dei punti più dibattuti questo. Allora, sui luoghi di lavoro, guarda, c'è proprio una risposta. Voglio essere preciso preciso. Eccolo qua. Come cambiano gli obblighi di Green Pass al lavoro fino al 30 di aprile? Così rispondiamo subito a chi ci ha mandato il messaggio. L'obbligo di Green Pass base si applica anche agli over 50, ai quali dal primo aprile non sarà più chiesto il Super Green Pass agli over 50. Senza certificato verde base, sempre fino al 30 aprile, non si può accedere al lavoro. Chi è senza Green Pass non è più considerato però assente e ingiustificato. Non scatterebbe più, perciò, la sospensione dello stipendio, ma resterebbe la sanzione pecuniaria dai 600 ai 1500 euro. Così abbiamo risposto anche sul fronte del lavoro. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. Da qualche giorno non vi vedevo più, è arrivato il mio tecnico speciale, ora tutto a posto. Grazie Emanuel e ringraziamoli questi tecnici che vengono lì con i cavi in mano ad aiutarvi e anche ad aiutarci perché così anche noi possiamo tornare nelle vostre case. Per me è troppo presto abbandonare le mascherine e allentare le restrizioni Covid. Ancora corre, fate attenzione, grazie per questo pensiero. Voglio salutarvi perché manca davvero poco per la chiusura di questa nostra mattinata insieme. Intanto con una bella storia, quella che riguarda l'aiuto ai bimbi ucraini da muccia. Grazie alla Andrea Boccelli Foundation, poi parliamo della partitona di questa sera. La Andrea Boccelli Foundation al fianco dell'Ucraina. L'impegno della Fondazione Toscana è su più fronti, prima di tutto il sostegno all'UNHCR. Li sosteniamo nel portare beni di prima necessità e soprattutto psicologi per il sostegno dei bambini e degli adolescenti. Invece, quello che abbiamo pensato di fare è utilizzare le strutture dei container, delle SAE, per accogliere in tutta fretta le persone che, in particolare a Cracovia, stavano scappando. Ecco, proprio le prime 23 persone caricate a Cracovia sono arrivate nelle Marche a Pievettorina, San Ginesio e Muccia. 13 bambini e 10 adulte. L'idea sarebbe quella di fare la prima accoglienza nei container appunto a Muccia e poi man mano che sono libere le SAE, per ora ce n'abbiamo un po' a coglierle e poi oggi appunto noi abbiamo organizzato un team con una psicologa e due educatori e stanno già sentendo le famiglie per capire anche i desiderata di ognuno. Queste sono le belle storie con le quali vogliamo convivere questa fase così difficile. Buongiorno, io vi vedo benissimo da Castorano di Ascoli, canale 12. Grazie, viva Castorano di Ascoli, viva le amiche e gli amici che riescono a seguirci, nonostante questi cambiamenti in HD, ma tra qualche giorno sarà tutto a posto. L'Italia chiamò cosa fare e cosa evitare per battere la Macedonia del Nord e andare in finale. Grande attesa stasera alle 20.45 ci si gioca un pezzetto dei mondiali perché poi ci sarà dopo la semifinale, eventualmente speriamo, la finalissima. Ci siamo incasinati da soli ma col calore della mia Palermo tutto è possibile. Così Totò Schillaci, l'eroe di Italia 90. Chi non ricorda se ha qualche annetto, gli occhi sgranati di Totò dopo ogni esultanza. Un'estate magica. Giacob Stamberi, la curva olimpica. Quanto tifo dai medagliati azzurri questa sera per i ragazzi di Mancini. Donnarumma e Giorginio, pensieri di rigore, sarà un dischetto a due volti. Non ci dimentichiamo che Giorginio e Naccia, avendo sbagliato due rigori sia all'andata sia al ritorno con la Svizzera, ci ha costretti a questi play-off. Insomma, giocatore sublime ma può sbagliare. Juve, l'inchiesta si allarga tra stipendi manovrati e documenti da distruggere. Ogni volta che c'è una pausa per la Nazionale scatta una inchiesta sulla Juve. L'accusa ipotizza che le quattro mensilità di inizio pandemia, che erano state congelate, slittate, siano state poi spalmate in qualche modo, dalle plusvalenze alle mensilità congelate, l'inchiesta prisma le tappe del processo che potrebbe scattare. Di Bala e Allegri ritrovarsi dopo l'addio. Ricordiamo che Di Bala ha avuto il mancato rinnovo del contratto, non ha deciso lui. Secondo me è stata la Juve che non ha confermato la sua proposta di ottobre e quindi continuerà a giocare fino a giugno. Ma insomma, in quale clima? Parliamo anche di questo. Mi devo fermare, grazie. Vi ricordo stasera alle ore 22 il concerto per la pace. Il maestro Marco Santini e Diana, questa piccola grande artista di nove anni scappata dalle bombe russe cadute in Ucraina, sarà con noi stasera col suo pianoforte, anzi col pianoforte Rossini che voglio ringraziare ancora tramite Lorenzo. Sarà nei nostri studi, anzi è già qua. E poi ci permetteremo anche di fare una piccola donazione tramite il sorriso di Daniela, l'associazione creata da Gabriella Frontalini in Storani e da Franco Grasso per aiutare Diana and her family, come si può leggere appunto nell'intestazione. Stasera alle 22 e subito dopo Sibilla, le voci della ricostruzione con Linda Cittadini. Da parte mia grazie, buon proseguimento con i nostri programmi. È iniziata la riorganizzazione delle frequenze nelle regioni adriatiche e sud Italia. Risintonizza la TV per continuare a guardare i tuoi canali preferiti. Per verificare la data esatta di avvio nel tuo comune, vai sul sito, chiama il call center o scrivici su WhatsApp. Ben trovati a questa nuova puntata di Flash Job. In studio con me Simone Carotti, titolare dello studio Carotti e Associati. Ben trovato. Grazie e buonasera a tutti. Ecco, oggi parliamo di nuove disposizioni per quanto riguarda lo smart working. Ricordiamo i nostri telespettatori che ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate dando questo limite del primo aprile, questa data, come la data in cui molto probabilmente si sarebbe tornati alla normalità. Queste nuove disposizioni ci dicono che appunto non sarà così e quindi andiamo a vedere appunto con Simone Carotti che cosa prevede, che cosa si prevede nel futuro dello smart working? Ecco, ridefiniamo un attimo perché poi ne abbiamo parlato tante volte ma è molto importante dire che lo smart working è il lavoro che viene svolto da qualunque luogo che non sia appunto la sede abituale di lavoro quindi non è solo il lavoro da casa. Certo, durante la pandemia e per due anni molte persone hanno lavorato da casa ma quello viene più propriamente chiamato telelavoro e non smart working. Comunque, in generale, lo smart working che esisteva anche prima è la possibilità di lavorare da un altro luogo che non sia la sede abituale dell'azienda e lo smart working ha sempre avuto una regolamentazione propria e un contratto proprio. Solo durante l'emergenza pandemica e fondamentalmente dal marzo 2020 fino a oggi si è potuto fare dello smart working senza particolare burocratia.